dove cazzo stai mettendo i cosi? qua ma che stai facendo? non è mettere tu sei un coglione a puta ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah che sta posto che sta posto oh, rocca ricario oh 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 tirata addosso e si fatta esplodere si è fatto male che è caduto vai aiutarlo perchè mi ricorda l'ultima clip guarda che giro ho dovuto fare ma dai cerca di fare anche in fretta dio caro cerca di usare il rampino che ti fa un sacco di male pronto viaggio figlio di puttana taglia quella parte dall'audio così lo uso per farci noi siamo l'ultimo ma ogni volta che dice uno il padre dice figlio di puttana non non No. Hai mai avuto un buon personaggio, come un vero super hero? Hai mai avuto un disguiso? No. Allora, vedo che dovrei farvi teacharti come essere villains. Figlio di puttana! Now listen closely! Eh, volevi tirarmi... Oh, oh, oh! Stanno arrivando, presto! Lancio! Aspetta, no. Hai sentito cosa stai facendo? Unh, doveva un cuore uno, trope un cuore, trope un cuore! Maaaiiiis! Leccesse?! LUCASCINATO! 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 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA What the blitz Oh quelle di tio No io non ci credo Credo, ora credo anche io sia un hacker Oh Dio mio! Ehh, Fanta banana? Dimmi Ehh, how old are you, you fucking kid? Thanks I'm sorry man, why you kill me? Oh my god aspetta si atterra lasciamolo interrogare fatto vieni qui vieni qui mi ha preso l'ostaggio madonna e ciao rianimolo in fretta che hanno scoperto torna indietro si può essere idioti ok sopra non c'è nessuno infatti devo andare sotto vabbè stavo guardando no hai ragione niente ma infatti a me se c'è qualcuno c'è abbiamo il termite fratto tu ce l'hai? no non ce l'hai, le claymore qui qui ce ne sono due aiuto ragazzi aiuto aiuto cazzo merda no mi sta cantando bravi ragazzi ehi su, ehi su aspetta cosa si fa? entriamo in ogni piazzoli non faccio un cazzo e vinciamo oh lo sta interrogando eh comodo eh l'hai interrogato cosa per un cazzo beh fada è venuta a fare di plazzo oh no 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 che cazzo ho fatto? ho fatto piano 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 beh un po' di fatta ce l'ho eh beh un po' di fatta ce l'ho eh e road on et che sang piazz piazz cazza дня ONG Hyp Bryй ora Onun Chissà dove cazzo sto andando Ci sono i parcheggi qui sopra ma non si può salire No veramente, aspetta un secondo Dove stai andando? No, questa qualcuno me la deve spiegare Questa qualcuno me la deve spiegare Ma la gente come la parcheggia la macchina qui se non ce l'ha salita Come? Come? Come la parcheggia la macchina la gente qua Ma appunto guarda qua Ma viene da l'elicotro che c'è lì su Stranissimo